Professor Chiarelli, virus sinciziale, bronchiolite, dilaga anche in Abruzzo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo un po' quello che noi ci aspettavamo, perché vari report sia all'estero ma anche in Italia, per esempio in Lombardia, in Veneto e nel vicino Lazio, avevano ben documentato che il virus respiratorio sinciziale colpiva, come è successo sempre prima dell'epidemia di Covid, colpiva i bambini molto piccoli, i bambini del primo anno di vita in linea di massima, anche se poi può colpire anche i bambini un po' più grandicelli, ma è particolarmente importante nei bambini dei primi mesi di vita. In queste regioni era stato segnalato un aumento variabile da 5 a 10 volte rispetto allo scorso anno e noi abbiamo anche nella nostra regione osservato un aumento dei casi in maniera significativa. Situazione a Chieti? Beh, a Chieti e in tutta la regione Abruzzo, dai report che abbiamo anche dai colleghi che lavorano nelle altre province, è del tutto chiaro come quest'anno il virus respiratorio sinciziale abbia inciso per più di 10 volte rispetto all'anno scorso. C'è forse anche una maggiore virulenza perché ovviamente i virus cambiano, come abbiamo imparato anche col Covid-19 e quindi sicuramente, probabilmente c'è anche un riverbero dal punto di vista della gravità della sintomatologia. Le cure, abbiamo detto ossigeno-terapia, farmaci steroidei. L'ossigeno-terapia è la base essenziale, la base essenziale è l'ossigeno-terapia. Poi c'è una terapia di supporto, quindi la terapia è quella di far respirare meglio il bambino, c'è una terapia di supporto con steroidi, qualche volta anche con antibiotici, laddove ci sia un quadro che faccia pensare ad una complicanza batterica, ma in genere i bambini con l'ossigeno stanno meglio, alcuni stanno molto male, dobbiamo dirlo questo, e quindi qualche volta richiedono degli interventi ancora più rilevanti, ma in genere con un'ossigeno-terapia fatta in modo tempestivo, ecco io questo ci terrei a sottolineare, è adeguato, in genere i bambini poi lo risolvono.